Nel giorno in cui il governo lancia e fa partire il cashback, il super cashback, il rimborso sugli scontrini fiscali, la CNA di Salerno promuove CNA Tua, un'ulteriore iniziativa per incentivare gli acquisti nei negozi e nelle botteghe di vicinato necessarie non solo per le funzioni puramente economiche che il commercio e l'artigianato svolgono, ma anche per le importanti funzioni sociali. La CNA ritiene necessario un riequilibrio tra grandi colossi del commercio online, grande distribuzione ed imprese del commercio di vicinato operanti nelle città, nei centri storici dove la presenza di botteghe e negozi significa vita, presenze, ricchezza, tradizioni e cultura. Se acquisti da noi la lotteria la vinciamo tutti. Con questo messaggio parte oggi nei negozi CNA Tua una vetrina virtuale sui social che dà voce alle imprese associate, dei piccoli video nei quali i singoli artigiani promuovono il valore delle loro attività e delle loro creazioni e al tempo stesso lanciano un invito ad acquistare nei negozi della propria città con l'obiettivo di stimolare con le immagini e con le parole lo shopping di vicinato. Non un ritorno economico in termini concreti come promesso dal cashback nazionale, ma un ristoro per la cultura e la possibilità di tramandare esperienze e tradizioni. Una specie di tantam di bottega in bottega che entrando nel cuore dell'artigianato salernitano cercherà di supportare in vista dello shopping natalizio gli acquisti tra gli artigiani della CNA. Abbiamo ricevuto tante sollecitazioni da parte dei nostri associati che si sentono schiacciati da grandi colossi del commercio elettronico. Il lockdown ha favorito gli acquisti online, motivo per cui anche per incidere nella nostra economia dobbiamo acquistare locale, così ha dichiarato Lucio Ronca, presidente provinciale della CNA di Salerno. Preferire dunque gli esercizi commerciali della propria città che con pazienza, tenace e sacrificio hanno atteso la ripresa delle vendite e l'occasione per sostenere l'economia locale.